Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un argomento molto richiesto. I prestiti offerti da BancoPosta, il servizio finanziario di poste italiane. Se ti iscrivi ai prestiti.online ora, e se sei in cerca di un finanziamento e vuoi capire come navigare tra le diverse opzioni offerte da BancoPosta, sei nel posto giusto. Preparatevi, perché entreremo nel dettaglio su come funzionano, quali sono i requisiti e come fare una simulazione per capire quale prestito fa al caso vostro. Allora, mettetevi comodi e continuate a guardare. Puntina prestito BancoPosta online, cos'è? Iniziamo col dire che il prestito BancoPosta online è una soluzione pensata per chi vuole la comodità di una gestione 100% online. Se sei un correntista BancoPosta, questo potrebbe essere l'ideale per te. Puoi fare tutto dal tuo computer o smartphone, dalla richiesta alla firma digitale. Come funziona i percentuali importanti? E ora, passiamo alle cifre. Questo prestito ha una durata che varia da 24 a 108 rate mensili. A differenza del mini prestito BancoPosta che offre prestiti veloci da 1.000 a 3.000 euro, link in descrizione, l'importo di questo prestito va da un minimo è di 3.000 euro e si può arrivare fino a 30.000 euro. E attenzione, c'è una promozione attiva fino al 31 luglio 2024 con un TAN fisso dell'8,90% e un TAIG del 9,36%. Ad esempio, se prendi in prestito 10.000 euro con 84 rate mensili, la tua rata sarà di 160,38 euro. Requisiti e documentazione. Per accedere a questo prestito, ci sono alcuni requisiti di base. Devi essere maggiorenne, residente in Italia e avere un reddito dimostrabile. Se sei un cittadino straniero, serve anche la regolarità del soggiorno. La documentazione necessaria comprende un documento d'identità, la tessera sanitaria e una prova di reddito. Assistenza e numero verde. Se hai bisogno di assistenza, puoi chiamare il numero verde 8000-03322, aperto per rispondere a tutte le tue domande. Simulazione e calcoli. Non dimenticate di fare una simulazione del prestito per avere un quadro chiaro della situazione. Se prendi un prestito di 10.000 euro da ripagare in 84 rate, il costo totale sarà di 13.471,92 euro. Quindi, pagherai un totale di 3471,92 euro di interessi. Conclusione. Spero che questo video vi abbia fornito un quadro completo dei prestiti offerti da Banco Posta. Ora dovreste avere tutte le informazioni necessarie per fare una scelta informata. Ricordate sempre di leggere attentamente i termini e le condizioni prima di firmare qualsiasi contratto. Grazie per aver guardato, commenta, iscriviti e alla prossima!